Sì, dobbiamo dire che con grande orgoglio e con grande onore che la processione della Vara è stata iscritta nel registro dei beni immateriali, su una convenzione dell'UNESCO, quindi praticamente diventiamo quasi patrimonio dell'umanità. Non solo la Madonna dell'Assunta ha avuto questo grande onore e grande privilegio che giustamente gli tocca, ma la Madonna della Lettera, la nostra protrettrice, anche la processione della Madonna della Lettera è stata iscritta in questo registro importante per la città di Messina. In occasione di questo io mi faccio promotore di un'iniziativa per salutare la Madonna della Lettera all'arrivo in Piazza Duomo con dei fazzoletti che tutti i cittadini messinesi chiamo a raccolta a venire nel mio negozio oggi e domani, a chi mi promette che verrà e sarà presente a questa importantissima manifestazione religiosa e di fede, io donerò questi fazzoletti in maniera tale da avere un caldo abbraccio a Maria che è la nostra protrettrice. In occasione di questo volevo pregare tutti coloro uguali hanno il privilegio e l'onore di avere i balconi che si affacciano sulle vie principali dove passerà la processione di addobbarli con fiori, di addobbarli con coperte antiche e di aprire appunto le porte a Maria che è l'unica che ci può dare conforto e serenità e ci può proteggere come ha fatto per tanti secoli. Grazie.